Ci sono giorni in cui ti svegli e tutto sembra uguale al giorno prima e mattine in cui invece ti svegli e tutto è cambiato. La tua vita non ha più un senso. Tipo questa mattina, quando gli italiani hanno aperto gli occhi e correndo subito al proprio computer o al tablet o a quello che è, con grandissima sorpresa e preoccupazione, immaginiamo noi, hanno appreso che Lynn Seiloan ha cambiato religione e si è convertita all'Islam. Sì, proprio lei, l'adorabile attrice di Mean Girls e The Canyons, tristemente nota per la sua vita poco adorabile fuori dai set e per quel suo vizietto di rubare le cose pur avendo i miliardi, sembra aver riscoperto la propria spiritualità. Anche se di certo ancora non c'è nulla e in effetti l'Islam come nuova filosofia di vita di Lilo per ora non è che una deduzione. Esaminiamo un po' gli indizi. Lynn Seiloan ha un profilo ufficiale di Instagram molto seguito, 5,7 milioni di followers, da cui sono improvvisamente sparite tutte le foto, comprese quelle festaiole e in bikini dell'attrice. Potrebbe trattarsi di semplice rigetto nei confronti della visibilità se non fosse per quella Alaykum Salam che ora campeggia sempre su Instagram accanto al nome dell'attrice. Per inciso, Alaykum Salam è un saluto arabo traducibile con pace a voi, comunemente diffuso fra i musulmani, tra cui è prassi salutarsi appunto con questa espressione. Se due indizi non fanno una prova, forse sì, va detto che già nei mesi scorsi era circolato il gossip della conversione di Lindsay che ha trascorso lungo tempo in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti come volontaria, avvicinandosi molto quindi alla cultura islamica. Leggendo vari articoli online scritti oltreoceano, tra l'altro, abbiamo scoperto che Lindsay Lohan gode di una certa fama in Turchia e che in diverse interviste locali non ha perso occasione per elogiare il presidente Erdogan e la società turca in cui pare si sia sentita ampiamente a proprio agio. In attesa di scoprire la prossima entusiasmante svolta nella vita di Lindsay Lohan e di capire quale religione deciderà di abbracciare, ci preme rassicurare tutti i suoi fan. Le foto sul profilo Facebook stanno bene e resistono nonostante i bikini. Per ora la rivoluzione social è work in progress.